Le pipe di gesso. Da una discussione di FLP del 2008. Qui in Belgio se ne trovano ancora. Due o tre anni fa ne ho comprate tre, sui 3 e 5 euro se non ricordo male. La prossima volta che vado in quel negozio posso fare qualche foto e poi metterle qui se vi interessa. Posso anche provvedere a mandarne a chi sarebbe interessato, perché per natura si tratta di pipe fragili e non so come viaggerebbero. Qui si dice che la pipa di gesso è l'unica che non fa male alla schiena, perché quando ti cade non hai bisogno di chinarti per prenderla su, tanto è già rotta. Ci sono comunque secondo me due tipi, quelle tutte di gesso e le altre che hanno solo il fornello di gesso e poi il cannello in un altro materiale, generalmente bannite. Sono pipe secondo me molto valide, preferisco però fumarle con tabacchi come le English Mixture, i Flake, eccetera, più che con i naturali. Io ne ho una trentina. Ah, dimenticavo, qui tra Liegi e Namur c'era prima tutta un'industria di queste pipe. Ne ha fatte e spedite miliardi, ma senza esagerazione, in giro per tutto il mondo. E siccome sono fragili, per ogni dozzina ordinata venivano spedite 13 pipe, per compensare le perdite dovute al trasporto. Io ne ho preso una in Olanda, in una comunissima tabaccheria e si trovano per pochi euro. La mia credo di averla pagata 5 euro e mi sono pentito francamente di non averne prese ancora altre. Fumano bene e fumano fresco, inoltre mi ricordano tanto le pipe di Gandalf e Bilbo Bajins. Effettivamente però non la uso molto, perché bisogna essere molto comodi per maneggiarla, in compenso quando la fumo mi dà una fumata piacevole e fresca. Non bisogna tirare troppo, perché non disperde calore e diventa quindi subito calda. Ovviamente non avendo un bocchino morbido non è possibile stringerla con i denti. Io utilizzo prevalentemente trinciati fini, in quanto mi pare che renda meglio. Non penso abbia bisogno di rodaggio, in quanto fino ad ora non ho notato un grande cambiamento nella fumata, anche se utilizzata saltuariamente. Qui in Belgio dove abito si dice terra cotta per queste pipe e non gesso. La zona in cui vivo infatti ne ha prodotte a suo tempo dei miliardi, esportate veramente in tutto il mondo. Però l'ultimo artigiano che ne produceva ha chiuso circa un anno e mezzo fa. Se ne trovano ancora però, le pipe di terra cotta sono un po' dure però, non fanno quei rugiola. Le più vecchie che ho le pagai allora, boh, credo 30 centesimi, parlo dell'anno 74-75. Per renderla più dolce la si può bagnare con acqua fresca, poi asciugarla e poi caricarla. Ne ho una sessantina di vari modelli e colori e ne fumo regolarmente una decina. Certi vecchi la chiamano la pipa salva schiena, perché se ti cade quando fumi ti risparmi la fatica di chinarti per prenderla su, perché tanto si è già rotta. Ah già, l'ho già detto, è perché si è rotta un'altra. Ho trovato un articolo in cui si parla di come si puliscono col fuoco le pipe in terracotta o pipe in gesso per il colore bianco. Quindi bisogna mettere la pipa in terracotta in un forno. Il calore brucia tutti i residui chimici accumulati nell'argilla. La brunitura o culottaggio sarà perduta, ma la pipa sarà come nuova. L'argilla sarà di nuovo tanto porosa che ti resteranno le labbra appiccicate. A questo proposito, nella stessa pagina viene indicato anche come fare un'imboccatura con lo spago. Se hai un cammino, meglio ancora, la corichi in mezzo alla brace e il gioco è fatto. D'altronde era il sistema che si usava nelle antiche taverne. Pensa che da un trattamento del genere potrebbe uscire sufficientemente igienizzata? A proposito, se stiamo parlando di pipe in gesso, quelle porose, se sono in ceramica smaltata, non vorrei potesse nascere il problema della cristallina che in genere viene data sopra. Eventualmente abbiamo i contatti con i ceramisti. Buona domenica! Oh, io personalmente le adoro. All'inizio sono un po' aspre, però poi francamente ci ricavo delle grosse soddisfazioni. Ci fumo qualsiasi trinciotone mediterraneo, ma sinceramente più il trinciotone ignorante, meglio ci sta. Io andrei di cattiveria, tipo il Grease o il Land Tabac, o per restare in patria il comune o il forte. Io ne ho presa una da bollito. È vero che è storta, è vero che gli spessori sono irregolari, ma almeno la mia, almeno per me funziona straordinariamente bene. Restituisce bene il gusto come me lo aspetto. Non fa umidità, il fornello non si scalda nemmeno più di tanto, anche se comunque è una buona idea tenerla per il cannello, soprattutto appena dopo accesa e il tiraggio è buono. Tra questa di fabbricazione credo olandese e la chiogiotta che ho preso da boscolo, quella per l'argilla è stata una specie di folgorazione. Certo, non ha il sapore della radica, ma ci ricavo delle fumate comunque gustosissime. Vai a vedere che gli avi qualcosina pure l'avevano capita. Dico anch'io la mia, è assolutamente la fumata più fresca e asciutta. Poi la pipa regala delle sensazioni diverse dalla radica, il suo lavoro però lo svolge sempre egregiamente. Penso che andrebbero valorizzate di più e riscoperte come pipe. Io possiedo qualche pipa di gesso, sicuramente sono da avere per un fumatore di pipa che non si voglia fermare solo alla radica, visto anche il costo per nulla proibitivo. All'inizio, ma solo le prime fumate hanno un saporaccio, è vero. Si possono tenere in mano solo per il cannello, perché il fornello diventa incandescente, sono scomode e fastidiose da tenere tra i denti e consiglio veramente di avvolgere dello spago nella parte iniziale per ammorbidire il morso e ad annerimento avanzato iniziano letteralmente a trasudare. Sono pipe di altri tempi che è giusto provare e dopo un periodo di rodaggio hanno anche un gusto abbastanza neutro, ma sicuramente non sono pipe da usarsi proprio tutti i giorni. Sono state trovate alcune pipe in caolino in un cantiere vicino a Dunnington, mi pare, vicino a Cambridge, avete presente? Sono della seconda metà del XVII secolo, il periodo del protettorato di Oliver Cromwell e della restaurazione. Una aveva ancora il tabacco all'interno ed era chiaramente un plug. Mi sono sempre chiesto come doveva essere l'esperienza del fumare precedente alla radica. Così ho comprato una riproduzione e l'ho provata. Il fornello è molto piccolo e permette una fumata media di circa 20-30 minuti. L'argilla è totalmente neutra, quindi si aspira a fumo non alterato, il che permette di farsi un'idea più precisa della qualità dei vari tabacchi. Non fa umidità, il tiraggio è un po' più impegnativo avendo un foro di circa un millimetro e il fumo arriva straordinariamente fresco ma non abbondante. Queste pipe non sono fatte per essere e né tenute in bocca, perché pesano, sono troppo lunghe e il caolino è duro e scomodo tra i denti e non sono neanche fatte per essere tenute in mano, visto che il fornello scalda da matti. Si stringono dal cannello? Come si può? Così, con le due dita, come quasi una sigaretta. E si vede anche nelle numerose stampe dell'epoca. Non sono soggette al culottaggio, ma si anneriscono all'interno e sul bordo del fornello. La manutenzione è pressoché inesistente, non hanno bisogno di scovolinate a fine fumata e per pulirle basta capovolgerle e dare qualche colpetto al fornello. Sono delicatissime se cadono o se conservate dentro contenitori non rigidi, si rompono facilmente. Io uso la pipa in caolino quando voglio capire meglio un tabacco o quando cerco di immaginarmi come doveva essere fumare in un pub inglese del XVII secolo. Se volete capire meglio le origini del fumare la pipa, io vi consiglio vivamente di provarne una. Vi do una dritta. Per ridurla un po' con la scomodità dell'imboccatura dovuta alla durezza del materiale si può provare a fare una specie di piombatura con dello spago sottile. Io per esempio ho usato quello per legare gli arrosti, va benissimo.